Ogni capa è nu tribunale. Questo è il detto del giorno per me, dell'anno, del mese, di ora. Il detto che si adatta ai tempi nostri. È un detto antico. Ogni capa è nu tribunale. Oggi abbiamo raggiunto il punto più basso a livello di ragionamento, a livello di comprensione tra le persone. Con tutte le problematiche che ci sono tra... si discute per tutto e si discute per niente. Cioè in realtà discussioni costruttive, la discussione è solo polemica. Ogni capa è nu tribunale. Molti diciamo sapranno cosa significa questo detto. Ogni capa è nu tribunale. E cioè vuol dire che ogni testa, in ogni testa è un tribunale, tradotto letteralmente in italiano. Ognuno nella propria testa si fa la sua ragione ed è capace nella propria testa di fare... di emettere una sentenza di condanna, una sentenza definitiva verso un'altra persona. Quindi ognuno in testa a sé si fa la sua ragione e non è capace più di ascoltare, né più di cambiare idea. Quindi... e oggi come quanto è stato inventato questo detto è attuale. Basta vedere nella nostra vita di tutti i giorni, ma basta anche accendere la televisione la mattina. Per le guerre, le discrepanze, diciamo, di ragionamento che ci sono. Ma se ci fermiamo a ragionare, veramente vediamo che per un minimo si fanno guerre per sciocchezze. Oggi ci dovrebbe essere la civiltà, perché rispetto praticamente all'epoca primitiva, all'epoca degli antichi romani, dove c'erano i barbari, dove c'erano oggi bene o male, nel 2024, tutti quanti hanno... cioè l'essere umano ha raggiunto una fase evolutiva tale che si poteva pensare che ogni discussione, ogni diatriba potesse essere risolta più facilmente. Invece non è così. Si anzi peggiorate e si peggiorerà sempre di più. Secondo me questo è forse però il minimo storico da questo punto di vista. Ci sentiamo al prossimo detto.